Quando dimagrire non significa soffrire. Centro dimagrimento Li Belcri, unico affiliato Tomastai in Veneto. Liberati dai chili di troppo, senza ammazzarti di fatica e di diete. Tre azioni con le quali dirai addio al tuo sovrappeso. Educazione alimentare, con un menu creato insieme alla consulente alimentare. Attività motoria, mezz'ora di semplici esercizi in una capsula riscaldata. Trattamenti corpo manuali o con apparecchiature di ultima generazione. E solo da noi, QQN, il guscio termico per la perita dei chili. Centro dimagrimento Li Belcri, in centro a Pra Maggiore. Buona estate a tutti!